Automation. Di cosa parliamo quando parliamo di email marketing automation? Parliamo di flussi di comunicazioni automatizzate, quindi allo scatenarsi di un certo evento partiranno una serie di comunicazioni automatiche. L'email marketing automation diventa molto interessante quando andiamo a concepirla nella multicanalità, quindi quando andiamo a giocare con canali differenti, con il canale email, ad esempio, e con il canale SMS. Nell'automation abbiamo sia flussi di comunicazioni, sia comunicazioni automatizzate, quindi un invio automatico per il compleanno. Abbiamo anche la possibilità di impostare dei contenuti dinamici, quindi parti di comunicazioni specifiche per un determinato cluster di destinatari. Ma andiamo a vedere subito come sono strutturati i workflow. Abbiamo due tipologie di workflow a disposizione, i workflow preconfigurati e i workflow personalizzati. Che differenze ci sono tra i workflow preconfigurati e i workflow personalizzati? Semplicemente i workflow preconfigurati hanno una struttura già creata, mentre i workflow personalizzati possiamo andare appunto a crearli noi. I workflow preconfigurati si basano sulle best practice dell'email marketing. Molto spesso c'è la concezione che possono fare email marketing automation solo gli e-commerce. Non è vero. Possiamo andare a creare ad esempio delle welcome series, quindi colleghiamo il form di iscrizione che abbiamo sul nostro sito con la piattaforma, oppure utilizziamo uno dei nostri form di iscrizione e facciamo partire una serie di benvenuto. Oppure possiamo sfruttare un workflow per fare i lagui di compleanno. Magari anziché farli il giorno stesso, potremmo utilizzare un invio automatico per questa tipologia di automatismo, decidiamo di partire qualche giorno prima perché vogliamo che il giorno del suo compleanno il nostro destinatario magari venga nel nostro negozio. Per cui lo avviso qualche giorno prima che potrebbe passare per trovare questa sorpresa per lui. O ancora posso effettuare un'inaugurazione e voglio che ricordarti n giorni prima che ci sarà l'inaugurazione di qualcosa. Tra i workflow preconfigurati troviamo anche il classico workflow, questo sì per l'e-commerce, relativo al carrello abbandonato. Partiamo dalla Welcome Series che sicuramente è uno degli automatismi più interessanti. In piattaforma c'è anche la possibilità di mandare una sola mail di benvenuto. In realtà una sola mail di benvenuto rischia di andare a non lavorare bene nel momento in cui il destinatario ci sta mostrando un forte interesse perché si è appena iscritto. Per cui magari mandare un flusso di comunicazioni può essere più efficace. Vado a specificare il nome ad uso interno del mio workflow, Welcome Series. Posso inserire anche una descrizione sempre ad uso interno. Andare a specificare il nome emittente email, l'email emittente, eventualmente anche l'emittente SMS perché nel workflow possiamo utilizzare anche il canale SMS. E specificare eventualmente dei tag. Dicevamo, i workflow si basano sullo scatenarsi di un evento. Quindi, quando deve iniziare questo workflow? Nel momento stesso in cui l'evento si verifica? Oppure un giorno dopo, due giorni dopo, tre giorni dopo? In questo caso stiamo parlando di Welcome Series. Quindi io voglio che al momento dell'iscrizione succeda qualcosa. Inizi un flusso. Clicco su Avanti e avrò il mio workflow preconfigurato. Quindi c'è già una struttura che chiaramente posso andare a personalizzare sempre in modalità drag and drop. Quindi è veramente molto semplice e molto intuitivo. L'inizio, l'evento scatenante. Che cos'è? Abbiamo detto il giorno dell'iscrizione. Il giorno dell'iscrizione manderò una comunicazione email. Scelgo una mail, quindi andrò nel mio elenco di messaggi email. Scelerò un messaggio dedicato a questo workflow, quindi mail app, benvenuto nel mondo dell'email marketing. Dopodiché posso decidere di attendere giorni o ore da un evento legato al messaggio precedente. Quindi scelgo un'opzione di attesa dopo l'invio della prima comunicazione, dopo l'apertura della prima comunicazione, dopo eventuali click effettuati in questa prima comunicazione, oppure dopo che non è stata effettuata un'azione, quindi non hanno aperto la prima mail o non hanno cliccato nella prima mail. In questo caso dico benissimo, io manderò al momento dell'iscrizione la prima mail, quindi mail app, benvenuto nel mondo dell'email marketing. Una volta che questa comunicazione viene aperta, due giorni dopo l'apertura, voglio mandare un'altra comunicazione, che sarà perfetto. Voglio farti conoscere le best practice dell'email marketing e quindi voglio fare scaricare degli ebook specifici. Voglio anche personalizzare questo workflow, quindi andrò ad inserire un'altra azione, un'altra attesa. Quindi dico perfetto, dopo sette giorni dal click, perché voglio che scarichi il mio ebook, quindi la call to action principale, il bottone, voglio che venga cliccato, ti inviterò alla nostra mail app academy. Quindi questo sarà il mio flusso. Evento, giorno dell'iscrizione nel form, prima mail, mail di benvenuto, ti ricordo a cosa ti sei iscritto, con che frequenza riceverai le mie comunicazioni, i plus di esserti iscritto alla mia newsletter e che in qualsiasi momento puoi andare a disiscriverti. Dopo due giorni dall'apertura di questa comunicazione, te ne invierò un'altra, dove ti darò la possibilità di scaricare degli ebook dedicati. Dopo sette giorni dal click in questa seconda comunicazione, quindi nel bottone della call to action di questa seconda comunicazione, andrò a inviarti un invito per il nostro evento, per la nostra mail app academy. Avanti, sono nella pagina opzioni, dove posso scegliere ulteriori condizioni di segmentazione, quindi includere solo certi gruppi, escluderne altri, applicare filtri, posso impostare delle limitazioni, quindi non voglio inviare nelle ore notturne. Quindi, dalle 20 alle 9, non voglio che i miei destinatari ricevano nulla, e posso andare a specificare, ad esempio, anche di non inviare nel fine settimana, quindi imposto, ad esempio, delle fasce di non disturbo. Avanti, ho un riepilogo del mio workflow, con il nome e descrizione ad uso interno, nome emittente, email emittente, il flusso, a questo punto le restrizioni che ho impostato, a questo punto attivo il workflow. Quindi, il workflow sarà su stato attivo, vedrò nell'elenco del workflow la tipologia di workflow che ho creato, quante email sono incluse in questo workflow, e lo stato. Posso in qualsiasi momento andare a modificarlo, simularlo per vedere quante persone raggiungerebbe il mio automatismo, visionare le statistiche, copiarlo o eliminarlo. Vado a creare un nuovo workflow, abbiamo detto che posso creare un workflow anche per il compleanno, workflow di promemoria a un evento, o utilizzare il classico workflow per il carrello abbandonato, quindi in questo caso stiamo parlando di un e-commerce, e vado a selezionare il mio campo anagrafico che avrò precedentemente costruito, che è data carrello abbandonato, con la tipologia di data più consona l'e-commerce, che è anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi e time zone, e posso dire, perfetto, dopo sei ore dal carrello abbandonato, voglio che parta il mio workflow. Questi qui sono i workflow preconfigurati, abbiamo anche la possibilità, dicevamo, di utilizzare workflow personalizzati, che partono anch'essi da un evento, che può essere la data di iscrizione, la condizione di un campo, la condizione di un gruppo, quindi voglio mandare un automatismo a tutti quelli iscritti dal form sul sito, o a tutti quelli che si sono iscritti tramite Facebook App, o dei workflow che partono da un'attività che può avere fatto o non fatto un nostro destinatario. Come dicevamo prima, i workflow preconfigurati hanno una struttura, mentre i workflow personalizzati andiamo noi a crearli. adesso vi faccio vedere. La differenza è questa, che in questa sezione non c'è una struttura, ma andiamo noi, in modalità drag and drop, a crearla. Quindi questi sono i workflow preconfigurati e personalizzati. Passiamo ora all'invii automatici, ovvero alla possibilità di creare un automatismo che parta da un'azione, del no, che scateni un'azione. I invii automatici si basano appunto su tre step. La frequenza di attivazione, quindi io posso scegliere che tutti i giorni ha un orario, perché stiamo parlando del compleanno, un orario specifico, la piattaforma controlli qualcosa. Posso arrivare a una precisione che arriva fino a 5 minuti. I invii automatici hanno appunto un livello di specificità maggiore rispetto al workflow, per questo possono sembrare anche un pochino più complessi magari da impostare. Io dirò che il mio criterio di ricorrenza sarà giornaliero, quindi tutti i giorni ha uno specifico orario, ma potrebbe essere anche settimanale, solo in certi giorni della settimana. Potrebbe essere anche mensile, ricorre ogni 4, oppure ricorre il giorno 14, oppure ricorre ogni terzo giovedì del mese, oppure può essere un criterio annuale. Nel nostro caso parliamo di compleanno, quindi tutti i giorni a quest'orario la piattaforma verificherà qualcosa. Come per il workflow possiamo impostare anche delle fasce di non disturbo, che siano un arco temporale, nel caso di una promozione, o date specifiche, oppure magari nel fine settimana o nelle ore notturne, e posso decidere che cosa debba succedere se la mia condizione si verifichi in una fascia di non disturbo, quindi farò partire il prima possibile, oppure se si verifica in una fascia di non disturbo non voglio che parta nulla. La condizione sarà quando è vero o quando è falso un certo filtro, ad esempio il filtro per una grafica compleanno, che avrò creato, posso anche decidere di andare a utilizzare delle voci predefinite, quindi dopo tre giorni, dall'inserimento dei sospesi, ad esempio i sospesi sono coloro che non formano iscrizione, hanno cliccato su iscriviti, ma non hanno magari cliccato nella mail di richiesta conferma, e posso applicare anche ulteriori regole per cui includere, scudere o applicare gruppi e filtri. L'azione che si scatenerà potrà essere l'invio di una comunicazione email, una comunicazione sms, oppure potrò gestire i miei destinatari copiandoli e spostandoli. In questo caso ho detto che tutti i giorni alle nove del mattino, voglio che sia verificata la veridicità del mio filtro per una grafica compleanno, e quindi se questo filtro è vero, voglio andare ad inviare il mio messaggio con gli auguri del compleanno, con questo nome emittente e con questo email emittente. Salva, andrò nell'elenco degli invii automatici e troverò il mio invio, che posso attivare semplicemente selezionando questo flag. Quindi, per quanto riguarda gli automatismi, posso andare a decidere se utilizzare workflow o invii automatici. I workflow sono flussi di comunicazioni, email o sms o entrambi, che partono dallo scatenarsi di un evento. Possono esserci workflow preconfigurati o workflow personalizzati. Gli invii automatici scatenano una azione, che può essere l'invio di un sms o di una mail, e sono molto precisi. Questo appunto riguarda l'email marketing automation.